Donald Trump è stato ufficialmente nominato candidato repubblicano per la presidenza degli Stati Uniti. 1725 i delegati alla convention di Cleveland che l'hanno votato. È un grande onore e non vi deluderò, commenta il Tycoon in collegamento da New York. Unifichiamo questo partito e l'invito dello speaker della Camera, Paul Ryan, ed è ancora polemica per il discorso della moglie di Trump, Melania, che avrebbe copiato quello di Michelle Obama. Oggi la terza giornata della convention repubblicana.